Ciao e bentornato nella Fusion Page. Abbiamo già ritagliato correttamente tutto il verde all'interno di una ripresa in green screen? Bene, ora è il momento di inserire il background e di fare un'adeguata color correction. Ma prima di vederlo insieme ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Oggi facciamo l'ultimo tutorial di questa sessione dedicata al green screen andando a inserire un fondale. Quindi andremo a inserire questa clip opportunamente lavorata col delta gear e sullo sfondo metteremo un'altra clip video. Quindi faremo un esercizio di compositing e andremo a fare anche un matching tra il colore dell'immagine in primo piano con quello dello sfondo. Tutto all'interno della Fusion Page. Allora la clip è questa. Adesso disattivo l'audio per comodità e mi guardo la clip. Ok. Andiamo a fare ora la delta gear su questa clip. Quindi andiamo sull'Effect Library, andiamo a cercare all'interno dei tools il delta gear. lo applico in sequenza alla mia clip. Questa magari gli cambiamo nome, quindi selezioniamo la clip e premiamo F2 per cambiare il nome. La chiamiamo ad esempio clip. Così magari la distinguiamo dal background. Ora sul delta gear vado sull'inspector e vado a campionare il mio verde. Andiamo nella sezione matta. Oggi lavoreremo solo su questa e cominciamo a pulire un po' il verde. Quindi magari accendo la visualizzazione del canale alfa. Comincio a spegnere le parti di trasparenza, quindi del background. Alzando il threshold tolgo un po' di threshold anche dalle parti alte in modo tale da ritagliare un po' del foreground. Per adesso qui ci siamo. Andiamo a accendere un attimo la nostra visualizzazione. Andiamo a zoomare un po' sui bordi perché è un po' l'aria un po' più critica. Vedete qui c'è ancora un po' di bordo. Magari riesco a recuperarlo con le road. Tongo un po' di road, magari do un po' di fringe per mantenere un po' la semitrasparenza. Direi che fin qui tutto ok, sono tutte cose che abbiamo già visto. Però non abbiamo ancora visto questa parte. Allora, il matte fa già un suo despeel. L'abbiamo già visto all'interno di fringe, cioè mi va a togliere un po' quella colorazione verde sui bordi. Diciamo che il fringe, quello che abbiamo visto nel tutorial precedente di cui ti riporto il link in descrizione, è un affinamento di una fase di despeeling che fa già di default la sezione matte. Cioè se io ho il replace mode attivato, cioè non è su none ma è su una delle altre tre modalità, lui tenta comunque di sostituire, di pulire e migliorare la definizione del mascherino andando a sopprimere dei colori. Ad esempio se io metto none, lui vedete non fa nulla e queste aree di semitrasparenza se le porta dietro. Lui cercherà di togliere queste aree di semitrasparenza in qualche maniera andando ad attivare una replace mode. Allora se io attivo source, lui mantiene il colore originale e vedete che ci sono delle tonalità ancora di verde che sono dati dai riflessi generati appunto dal green background che abbiamo dietro. Però di default lui è impostato in soft color con un grigio. Cioè lui in questo modo in soft color va a pesare il colore originale, cioè il verde, con il nuovo colore di replace che gli ho dato, un grigio, in modo tale da eliminare quelle tonalità verde di base. Quindi dagli una prima pulizia. Se invece scelgo art color non farà nessuna media pesata, lui prenderà proprio la sezione e la sostituirà con il colore grigio. Infatti qui il grigio si nota di più rispetto al soft color che invece è più morbido. In effetti il default è il soft color. Bene, noi andiamo in source perché questa rimozione del verde la faremo manualmente con un nodo di color correction. Quindi rimettiamo source, andiamo in fit. Adesso andiamo a prendere il nostro fondale, quindi andiamo su media pool, andiamo a prendere un clip di background, la mettiamo qua in basso, gli cambiamo nome, tasto destro Rene, la chiamiamo background, magari usiamo l'abbreviazione BG. Ok, adesso visualizziamo il nostro delta keyer sul monitor 2, quindi premiamo 2 e visualizziamo il delta keyer. Apriamo il doppio monitor e chiudiamo il media pool e sul monitor 1 andiamo ad aprire background. Ma se io premo 1 vedete non succede nulla. Perché non succede nulla? Non è un problema di DaVinci, ma andiamo ad aprire il keyframe editor. Posso notare che il background in effetti dura molto meno rispetto alla clip normale. Posso vedere che dura 251 frame. Quindi non ho abbastanza lunghezza. Se vado all'inizio e vado a disattivare il canale alpha, perché era attivo anche sul monitor 1, posso notare che adesso la clip si vede. Il problema è che sono fuori dall'area di render della clip. C'è una parte di clip che non mi interessa. Quindi io devo estendere tutta la durata della clip per tutta la durata del videoclip anche al di fuori dell'area di render. Quindi per farlo semplicemente vado a mettere un loop all'interno della clip di background, perché in questo modo questa qui girerà in continuo per tutta la durata del videoclip. Quindi ce l'avrò sempre attiva. In effetti se faccio il play potrò notare, vedete che girerà anche quando sono nella parte del videoclip che non mi interessa. Se chiudo il keyframe editor e invece ritorno nell'area di render attiva, cioè questa, vedete che adesso il background lo vedo perfettamente, perché l'ho replicato per tutta la durata e quindi anche all'interno dell'area di render che ho selezionato sulla clip. Tengo a farti notare che l'area di render è definita all'interno della edit page con la porzione di clip che io ho selezionato, che è semplicemente una piccola parte del videoclip intero. Ritorno su Fusion. Andiamo ora a correggere manualmente lo spill del Delta Keyer. Quindi andiamo a togliere il verde e lo facciamo con un nodo di color correction. Quindi vado sul color corrector, seleziono Delta Keyer e aggiungo un nodo di color correction. Vado su menu e vado a scegliere Suppress, cioè vado a togliere dei colori. Quali colori vado a togliere? Vado a togliere un po' di verde, ad esempio, provo ad abbassare un po' il verde e abbasso anche il giallo. Ok, vedete che l'immagine adesso è un po' più pulita dal verde. Mi mancano un po' quelle tonalità di verde che c'erano prima, quindi risulta un po' più neutra. Quindi seleziono Background, vado a cliccare su Merge Node. Quindi all'ingresso di Background del Merge Node io gli darò Background, mentre all'ingresso di Foreground gli vado a collegare il Color Correction 1. E adesso il Merge 1 lo collego direttamente al Media Out. Bene, e vedete che già abbiamo una situazione in cui vediamo lo sfondo animato e il mio Foreground opportunamente ritagliato. Direi che questa prima parte è fatta. Ora però bisogna matchare, vedete, l'immagine in primo piano con il Background che ha un look tutto particolare. Quindi per farlo mettiamo due nodi di Color Correction, uno sul Background e uno subito a valle del Color Corrector che abbiamo utilizzato per fare il Despill. Quindi seleziono sempre Color Corrector 1 e vado a cliccare su un altro nodo di Color Corrector. Ora faccio tasto destro sul Node Editor. Vado ad allineare tutte le mie clip alla griglia per dargli un ordine. Ho cliccato su Line Up All Tool to Grade. Vedete che è tutto perfettamente ordinato. Adesso cominciamo a fare la nostra correzione colore. Cominciamo con l'immagine in Foreground. Prendiamo questa che può essere una buona inquadratura per poter fare il matching. Andiamo quindi a selezionare l'immagine della clip quindi il Color Corrector 3 in questo caso e cominciamo a lavorare con le ruote e con i settaggi. Quindi andiamo ad esempio sulle ombre e cominciamo a regolare le ombre. Allora adesso cercheremo di fare un matching più che altro visivo visto che questo è un vero e proprio grading. Andremo a virare il look più o meno corretto delle immagini in Foreground con quello un po' particolare dello sfondo. Come vedete abbiamo sullo sfondo dei blu che sono molto carichi sulle ombre. Lo possiamo vedere tranquillamente andando su questa sezione. Siccome sono in Color Management vado a attivare il manager in modo tale da vedere la stessa clip su tutte e due porzioni. Ti riporto il link in descrizione sul tutorial dedicato appunto al Color Management all'interno di Fusion. Sullo sfondo ho una tendenza al blu. Cercherò di farlo anche su questa clip. Vado a modificare un po' i contrasti. Ad esempio posso scendere un pochino col contrasto senza esagerare. Poi vado a togliere un po' di gain. Quindi vado a spegnere un po' le ombre. E poi mi porto verso i blu. Proviamo a dare forse un po' di gain alle ombre. Ok. Adesso andiamo sugli highlights. Andiamo a correggere anche gli highlights. Ad esempio qui siccome abbiamo dei gialli molto forti andiamo a spingere un po' sui gialli. Diamo un po' di saturazione innanzitutto. Quindi tiriamo un po' su la SAT e andiamo a spingere questa sezione sui gialli in maniera decisa. Andiamo ancora un po' su con la SAT e andiamo decisamente sui gialli. Ok. Adesso abbiamo le luci un po' troppo cariche. Le possiamo anche spegnere. Scendiamo un po' con la gamma. Andiamo a sistemare anche un po' la parte dei mezzi toni. Spegniamo un po' i mezzi toni. E poi prendiamo, vedete anche il puntino sui mezzi toni. Vedete qua ci sono le luci e qua le ombre. Abbiamo quello sui mezzi toni. Usciamo un attimo dai verdi. gli diamo un tocco e poi andiamo sul master e qui cerchiamo di uscire un attimo dai verdi. Perfetto. Adesso andiamo a sistemare anche un po' il background. Lo andiamo un po' ad adattare. Prendiamo quindi il color correction del background. Andiamo sulle ombre. Scendiamo con il gain delle ombre. Vado a neutralizzare un po' i blu. Ok. Perfetto. Andiamo a vedere il nostro risultato. Vedete che ci sono dei riflessi di giallo sulla figura. Possiamo ritornare un attimo sul nostro color corrector e andare su sugli highlights e spegnere un po' la SAT perché forse era troppo decisa. Scendiamo anche con il livello dei gialli. E questa è un'idea di matching che abbiamo fatto sul primo piano. Ma ricordiamoci sempre di tenere attivato sempre il pre-divide post-multiply quando si fa correzione di colore all'interno di Fusion per poter lavorare correttamente in correzione colore unicamente sulla parte ritagliata e senza andare a inficiare le aree di trasparenza. Se hai delle domande sulla compositing in green screen ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno del canale.